Avete presente questo gioco? Trivia Crack Kingdoms Si, lo conoscete tutti perché è famosissimo, incredibile, famosissimo, incredibile, incredibile Ed è anche famosissimo ed è anche incredibile Ma quello che se volete sapere voi è che c'è un certo Domenico Talladira Che è un dio, una divinità assoluta perché ha creato un canale su di me Un canale di Trivia Crack Kingdoms su Cosi96 Wow! E allora io mi sono messo di scrivere domande Ovviamente anche lui Quindi forza signori Se anche voi avete delle domande aggiungetele Giocateci, impazziteci E dato che voglio inferire contro la mia persona medesima Vi dirò anche il nome del mio account Così potreste, se volete, sfidarmi a quello che volete E io rifiuterò ogni vostra richiesta di sfida No scherzo, rifiuterò tutte quelle che riguarderanno film che non ho visto O incredibili spoiler Poi accetto se tipo mi chiedete Voglio fare il quiz su Grey's Anatomy Ma a me non me ne frega niente Quindi gli spoiler non sono un problema per me Allora farò il quiz Quindi tranquilli, se rifiuterò il vostro quiz È semplicemente per gli spoiler Per non per motivi personali Anzi mi divertirò un sacco a giocare con tutti voi Soltanto che ho tre vite nel gioco Quindi magari risponderò chissà come, chissà quando Ora sono nel bel mezzo del trasloco Quindi uff Però se voi mi invierete la richiesta Io risponderò Prima o poi Fidatevi, risponderò A meno che non rifiuti come ho detto prima la cosa Ok, basta, basta, basta Giocateci, aggiungete domande Mi raccomando Scrivete bene grammaticalmente Perché so che potete Quindi ci vediamo a un prossimo video Chissà quando